Prima di procedere oltre voglio vedere con voi un concetto particolare e fondamentale per la realizzazione delle prossime simulazioni più che altro delle simulazioni dove avremo la necessità di controllare più di un oggetto contemporaneamente specialmente quando si vanno a creare per esempio degli elementi che si distruggono abbiamo la necessità fondamentale di dover applicare questa tipologia di geometrie questo Packed Primitives praticamente è detta in maniera proprio brutale e in sintesi è un sistema per poter far pesare meno le nostre geometrie sulla RAM, sulle risorse del nostro hardware e di conseguenza avere la possibilità di poterle gestire al meglio durante la fase di simulazione se andiamo a vedere oltre alla guida che comunque troviamo online abbiamo la possibilità qui c'è tutta la spiegazione proprio anche tecnica se io vado a creare una copia sostanzialmente da 1 mega in altre 3 poi ho un totale di 4 mega 4 mega che mi vanno a pesare sulla mia RAM e queste qui sono sostanzialmente 4 mega ma potrebbero essere 1 mega è veramente poco se io ho delle geometrie invece un pochino più complesse vado ad appesantire di parecchio la mia RAM il mio calcolo sia di cache sia sul disco che sulle memorie che è in viewport di conseguenza all'interno di Udini abbiamo la possibilità di creare questo Packed Geometry che sostanzialmente prende la geometria fa un pack e quindi è come se ne facesse una copia istanziandola per x volte per quanto ci serve quindi fa uno storage sulla memoria e questa mia copia sostanzialmente è collegata e quindi non è così pesante come per esempio potremmo avere in altri casi in questo caso qui pesa molto poco di conseguenza avendo 1 mega mi riporta 1 mega quindi vuol dire che vado a risparmiare 3 mega se invece di 3 mega fossero 100 vado a risparmiare 300 mega quindi inizio a salire con i numeri e inizio ad avere comunque un peso minore e questo ci permette anche in fase di lavorazione specialmente con i rigid body di poter analizzare al meglio e quindi poter lavorare al meglio con le varie strutture quindi con i vari pezzi e le varie interazioni tra di loro oltre a questo abbiamo anche diverse tipologie come sono spiegate qui nella guida per visualizzare abbiamo il centroid il centroid è un concetto anche questo fondamentale quando si vanno a realizzare le simulazioni con i rigid body il centroid è sostanzialmente il baricentro del nostro oggetto dove è applicato il nostro pivot point chiamiamolo come vogliamo però è il centro di massa all'interno del mio oggetto e in alcuni casi è anche utile andarlo a resettare andarlo a posizionare all'interno o al centro del nostro oggetto qui c'è un esempio con un rendering perché non è che si possono queste operazioni qua del packet geometry si possono utilizzare anche in fase di rendering e vediamo che se io vado a renderizzare una scena molto complessa senza creare il packet primitives sostanzialmente qui ho un 2 giga occupati mentre se vado a realizzare il mio packet ne ho soltanto 63 e questo incide parecchio poi in fase di lavorazione possiamo realizzare varie tipologie questo è proprio l'esempio che dicevo prima sui nostri fracturing e così via se volete qui trovate anche altri esempi una descrizione anche abbastanza esostativa su il packet geometry ma vediamo quindi come poterlo generare e quindi come poterlo gestire grazie a tutti